Vi vorrei dire di star calmi ma tanto lo so che su Yume Full Flat nessuno rispetta le cose e soprattutto Favi Eh vabbè Devi mollarmi Allora guarda quante belle cose ci sono in giro Fatti distrarre tipo i bambini, bravo, 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 bravo Allora qualcuno deve novinare chi è quello tutto bianco Senza che lui parli, è che è troppo tardi, ha già riso L'hanno già capito tutti E poi Fere che piange è un qualcosa di incredibile E Fere sta piangendo perché è stato suotato il mito di chi è Massi in realtà E quindi sta piangendo per quel motivo Però non capirà la persona in questione e quindi noi faremo finta di nulla Perché rimarrà comunque un segreto per sempre Andiamo avanti, Massi sta cercando di uccidere Sì è paleso Non so perché mi vuole uccidere Allora praticamente hanno fatto un aggiornamento dove hanno messo le mappe create dall'utenza E questa dovrebbe essere una sorta di parco giochi sperimentale Io vorrei salire qua sopra Aspetta ma se io ti colpo Ce l'ho fatta Ciao Come ce l'hai fatta Ciao Però voglio anche salirci Eh no io ho problemi Ah ma se tu becchi qualcuno con il martello lo fa spawnare in altissimo Davvero? Sì Cavolo ma perché io sto volando infatti tutto il tempo? Mi state picchiando col martello? Sì perché io sto picchiando col martello Stef lo picchio Ecco perché No 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 Vieni Mi devi lasciare in pazzo Tanto non mi prendi al volo è impossibile Boom Ma dai T'ho preso subito Oh mio Dio Ragazzi ma avete visto? No È fantastico Credo che sia di quelli dove bisogna sopravvivere Che è sta roba? Oh cavolo Oh Siamo finiti di vivere Non ce la faremo mai Non saltare nei cavolo Mamma mia L'ultimo che arriva è brutto Sì tanto muori subito Sono io l'ultimo comunque Devi premere il bottone? Sicuramente Logica mi sa di sì Vai Schiacciate il bottone mentre sono sopra Perché se no vi ammazzo Ma sì Non riesco a cliccarlo Ti sto provando Ce l'hai fatta Perché? Che male Che male Che male Forte E mi sa che è volato Allora Finché è fermo mi sembra facile no? Giusto? Che fermo è facile Però mi sa che Siccome siamo molto burloni Nessuno arriva dall'altra parte No invece se l'era di tutto Ci stiamo correndo Il più in fretta possibile No 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 Io sono caduto anche con tutto fermo Aiuta perché giro tutto Chi è il valento che ha cliccato? Eh E vavi Aia Massimo mi sei caduto in pancia Devi girare tutto No ma raga È un enigma Dici che devi farli girare? Sì ha ragione Ha ragione Finché non hai la strada perfetta Sì finché non hai la strada esatto perfetta La prinzosperta Sì Ok Ma non basta far parkour Scusate Ma guarda che secondo me Infatti secondo me riusciamo Adesso cade È difficilissimo fare parkour In questo gioco No 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 Mi sembra cazzo Scusate Scusate Non girare Addio Io e Massi siamo incastrati Qualcuno prema il bottone No io ormai sto Premo io Premo io dai Vai premilo Ci puoi salvare la vita Aspetta che arriva No dai Va bene così Se tutto rottea Dovremmo essere salvi Ciao Ecco No 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 Io continuo ad aggrapparmi Ma si è peggiorato vero? Eh no Raga ma No 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 Siete scivolati giù È stato inizio Io sto bene Pensiamo a un piano Saltare Tipo un salta qui Un vai lì Stiamo saltando tutti a caso No no Bisogna fare un salto alla volta Ho capito Bisogna fare un salto Fermarsi Perché sto personaggio rimbalza È tipo una molla Quindi basta E quindi che vuoi fare? Qual è il tuo pittio? Come hai fatto questa roba? Saltando una sola volta alla volta Se premi qualcosa ti ammazzo Dai Ti ammazzo l'anima Vabbè adesso potete morire tutti Perché qua ci sono i checkpoint E non con i porney Davvero? Sì Guarda adesso muoio Ma io ho preso un checkpoint Sì Perché quando li ho in alto a destra Saving Yeah Che bello Perché sto caduta qua? Io non l'avevo fatto in livello C'è l'ascensore Sì sarebbe bellissimo su fornite Finalmente i checkpoint condivisi Da qualche parte Allora Ho provato Fere carutta come va pera Ho provato Devi smetterla Devi smetterla No non posso non salire Moriamo già abbastanza da soli E fammi salire E io ci sto provando E non fai salire Ma si è peggiorato Siete due cretini Siete due cretini Siete due cretini Siete due cretini Ma quanto sei bello Vai giù Mollatemi Fere sei l'unica Chance Che vuoi Non riesco a riferire su sto robo Ci siamo ritirati tutti su in qualche modo Ma si ci devi mollare Ma si Ma si Ma si No No Mi salverò Ve lo giuro Io odio Massi Non ti credo Che succede? Guarda il mio schermo Aspetta Mio dio Ancora vivo No ma stirovi cadono Porca miseria Mi avete fatto distrarre Forse riesco a salvarmi Raga Mettete la mollata e la presa Oh grazie Peccato Allora se mi racchiappate di nuovo Vi giuro che Vado avanti da solo Massi fermo E' bellissimo il workshop Vai ognuno per sé Fere dopo quanto cadono quelli rossi? Non lo so perché mi avete distratto con tutte le ore Vado io Dopo qualche secondino mi è sembrato Sì Ok Ti ho esperto dei salti singoli Yeeeh Andiamo Uno Due Io vedo Massi che continua a cascare E quattro Bravissimo Massi si è preso il nostro checkpoint Non ci credo Grazie Che schifo I checkpoint sono vicini dai Tanto lo so che Fere cade Non rompere Ce la fa Non esagerare Questo era semplice Ce la fa Qua mi sa che è un casino ragazzi Non lo so ma L'apparenza è tutta Sì Fa molta paura quel pezzo Assolutamente sì Io vado Ciao Vado io? Sì sì Amici No Ho sbattuto la faccia E sono vivo Salta Io ce l'ho fatta Dove siete? No Che file ha grappato Ah quale dei tre? Ah ecco quel cretino Guardate che cretino che è Che male Non ci credo Molla la presa Ok L'omino bianco è arrivato Allora Quindi questo ricrolla E però poi E poi No Andava verso su No L'ascensore che ti spara Plecina Non me l'aspettavo Allora Sono arrivato Però ve lo faccio fare No aspettate Mi butto giù Mi butto giù Ok 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 Dove bisogna andare? Eh dove sono io E non è un casino? No E devi lanciarti sul primo rullo Ok Ti ti aggrappi al secondo E ti fai portare avanti Al secondo Così? Come ha fatto Favi? No io sto facendo un po' il pirline Ah mi devo aggrappare a questo? Sì e ti porta all'altro Che figo Ahia È arrivato a fare Sì Devo mollarmi? Sì Ce l'ho fatta? Yey Ok 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 Questo sembra complicato Fai un casino Vediamo se ce la fai No Ok Ok Che ci cade addosso A chi arriva? A chi arriva? Ok perfetto Nessuno lo voleva prendere Chi se la sente? Dai Vediamo È morto Grazie Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Allora Ci volevo provare pure io Signori Ce la fa Proprio lui Allora Come on Bravissimi Mamma mia Che skill Ti ho abbracciato Hai visto Eh vabbè Fere no E invece Ce la fa No lo ce la fa Non ce la fa Abbiamo lo scivolo Perché ho esitato Capite Ho esitato Occhio c'è una palla Di te Occhio Cosa? C'è una palla Davvero? Mi ha schiacciato Ce n'è un'altra Ce n'è un'altra Massi Di tu di te Correte Che paura raga Aiuto Correte Ma non corre Il suo personaggio Salta Svia Anche in avanti Ma è giusto No Mi sa che siamo morti Esatto Perché io mi sono aggrappato Devi buttarti in avanti E entrare nell'imbuto No Ferre devi saltare Devi prendere il check Occhio Ok Salto Ti provo In avanti Sì Hai ragione Da qua Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Come cittare i livelli tantissimi Buongiorno Perfetto Ok Credo che siamo alle fasi finali Siamo alle fasi finali Ferre A che serve la roccia Dobbiamo mettere le pietre di sicuro Non so come Anche secondo me No perché li dobbiamo portare Per usare la catapulta dopo Esatto Ok Quanti ne portiamo Proviamo il più possibile Ma occhio Perché magari poi li finiamo Eh non credo Stare attento Secondo me va bene così Quei tre vanno bene Ok Chi sa premere il pulsante Io no Io se vuoi Ok ma si ce l'ha fatta Bravissimo Ma Oh 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 Cavolo Addio Aiuto Amici Amici aiuto È un casino qua Ma come facciamo a portarci delle rocce Con una cosa che rotte ha Stai per vomitare Orribile Aia Ok Prendi la roccia E scendi lì Va bene Almeno una Secondo me è positivissimo Che abbiamo portato una Ho centrato Cioè è centrato la catapulta Non ci credo Come è possibile Allora adesso dobbiamo far tornare Indietro Indietro la qua Ok 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 sta tornando Quindi Dobbiamo cercare di portare Un'altra roccia Quelle più grandi forse Secondo me dobbiamo centrare I tre bersagli no? Eh secondo me Quelle più piccole forse Non lo so Dovrei provare a lanciarla Io non posso più continuare Perché Fere? Boh mi si è bloccato tutto Vi vedo tutti fermi E se non fermo pure io È morta È morta Ma si premi il bottone Vuoi essere sicuro che non cada Aspetta Lo può premere lui Così andiamo in giro Con l'altra mano a fermi Esatto è quello che stiamo facendo Bravo Vai Massi Aspetta Non portare due rocce No Massi Scusami è colpa mia Dovete tenerle Tenetele il più possibile Ho schiacciato Non l'aspettavo mai Nel fuoco Ok Dall'alto dice Sto bene Uh Eccomi Opla Tutto bene Dovete provare a centrare con uno Eh beh sì Perché tanto se poi siamo scarsi Ah beh serve per far scendere il ponte elevatoio Eh sì Ok Io giro e tu tiri la leva Ma è sicuro? Dimmi Fere Riesci a buttarmi di sotto? E Massi riesce a buttare di sotto Fere? Eh Magari si sblocca Aspetta È tutto bloccato Fere ma non ci sei proprio Non c'è da me Come non ci sono? No Io vi vedo ma tutti fermi Sai che ti ha dato il crash Perché? Posta un po' in avanti la La catapulta? Esatto Vabbè ce la stai facendo Non troppo eh Non troppo Cioè ma stai prendendo la mira in modo serio? Eh sì Per forza Sennò come fai? E sei convinto di azzecare? Più o meno Vabbè certo che la faccio così Secondo i miei calcoli incredibili ce la facciamo Vai Verso giù Verso su Cosa devo fare? Verso su Ok Ce li fa Con il fenomeno Proprio lui Ce la fa Mamma mia Uno di tre Ne mancano altri due Va bene Io non ci scommetto un mezzo euro Però Io voglio crederci Andiamo E invece Ce l'avete fatta? Incredibile Dai non ci credo Mamma mia Non ci credo Come? Con che fisica? Se con i primi Vabbè Che dite? A dell'onore Siete convinti voi? Sì dai Troppo tardi Yes Mamma mia Che rischio E arriva il ponte Coppio loro Ce la fanno Gli eroi Senza fare Non roppere Ma perché? Perché? Dimmi perché dovevi rovinare alla fine Voglio una giustificazione No forse riesco a tirarmi su Ma sì io non lo so fare questo Ma non capisco i tasti Vabbè stesso Non so che dirti Se non li capisci Cioè non devo stare verso Ah vedi Ah ok 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 Un'altra volta e siamo salvi Quindi allora Alzo le mani al cielo Miro così Salto E mi aggrappo super in alto Perfetto Poi Devo mollare Poi alzare Oh Se l'ho fatta Finita? Sì 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 Giusto in tempo per perdermi la fine Guarda Sì sì Era lì Ho fatto tutto Ho fatto tutto giusto in tempo Per perdermi la fine L'ingiustizia incredibile Beh È il momento Ma aspetta Ma dove ci porta? A parte che siamo andando mano nella mano Dove siamo? Ovviamente sei di nuovo lì Perché è l'ultimo checkpoint Che hai preso Ma che finale triste però Così che c'è? Niente Ti lanci e torni dove eravamo Tristissimo In ogni caso Io Sì sì Giuro 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 Ci fermiamo così Ringraziamo a Ferre per aver completato il livello finale È stata Indispensabile Per farlo Come sempre Rimane la tradizione che Leile ed Etran Non le finisce A priori dal gioco A priori dal fatto che ci siano i checkpoint In un modo o nell'altro Qua sotto come sempre a coppia di altri video Iscrivetevi al canale Camperlina E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao